Grazie di essere qui e grazie soprattutto a Nando Riolo che stasera aprirà questo nostro seminario. È un seminario, quindi per questo è stato organizzato in questa maniera un po' particolare, cioè con incontri ogni due mesi, perché l'intento è di utilizzare l'intervallo che c'è tra un incontro e l'altro per dare la possibilità a tutti di studiare, di utilizzare gli appunti presi e le idee che sono state proposte nel corso del seminario e delle nostre lezioni. Questo incontro era stato pensato, come dicevamo con Riolo, prima che entrassero tutti, con l'idea di fare uno dei soliti incontri al centro Veneto. Poi le cose si sono mosse un po' da sole, un po' per l'interesse che questa iniziativa immediatamente ha sollevato. Quando l'esecutivo nazionale ha saputo di questa nostra proposta, che doveva restare al nostro interno, ci ha chiesto di poterla estendere a tutti i soci, offrendoci anche l'uso della sala capiente della SPI. Infatti abbiamo a disposizione 300 posti, quello che mai più avremmo potuto fare, non solo in presenza, perché la capienza del nostro centro non lo consente, ma nemmeno con il nostro piccolo zoom. E quindi grazie anche all'esecutivo nazionale, lo dico a nome dell'esecutivo nostro Veneto e di tutti i nostri soci. Pensavo utile rileggere però quello che abbiamo dato a tutti i nostri ospiti come traccia per sviluppare il loro discorso, per affrontare la loro lezione. E quindi, anche se occuperò un paio di minuti, vi rileggo quello che sicuramente tutti avete già visto nella presentazione di questo seminario, però credo sia utile averlo presente, perché è il punto di partenza della nostra ricerca. E avevamo scritto Che le teorie psicoanalitiche siano cambiate è sotto gli occhi di tutti. Che l'oggetto che le varie teorie sono in grado di indagare possa essere cambiato non è conseguentemente da escludere. Rispetto al metodo, invece, comunemente è dato per scontato che adottiamo sempre lo stesso. Libera associazione ed attenzione ugualmente cultuante. Anzi, appare come uno o forse l'unico elemento che accomuna le varie psicoanalisi. Ma è possibile? Posto quello che avevamo premesso, ce lo dobbiamo chiedere quantomeno. Per Freud, oggetto del metodo, l'oggetto del metodo era l'inconscio. Variazioni del metodo indagano il medesimo oggetto? Nel recente congresso della Società Psicoanalitica Italiana l'inconscio, o meglio, gli inconsci, sono stati al centro del dibattito. Ma, se molteplici sono gli inconsci che la psicoanalisi si prefigge di raggiungere, rispetto ai quali, peraltro, intende costruire delle teorie, può il metodo nato per esplorare l'inconscio dinamico prestarsi ad indagarli? In che casi? E a che condizioni ciò è possibile? In base al metodo psicoanalitico, cosa abbiamo appreso ed apprendiamo dei processi di formazione dell'inconscio? Di più, rivolgere l'attenzione a nuovi oggetti, superando l'orizzonte della rappresentazione per indagarne i precursori, che ricadute ha sul metodo? Ne ha? Eventualmente quali? Nel corso del congresso è stato anche posto l'interrogativo. Va ripensata l'idea stessa di libera associazione. Nata per mettere sotto osservazione le lacune del pensiero ed in essi imprevedibili, come va pensata, se ci si apre, ad indagare ciò che non è avvenuto? Sono interrogativi che dobbiamo porci e che poniamo per rifare oggi il punto ad alcuni psicoanalisti che sono tra i nostri maestri. Molte sono le colleghe, molti sono i colleghi nella SPI che hanno importanti cose da dire anche su questo tema. La nostra scelta è stata di interpellarne alcuni che hanno, a diverso titolo, contribuito in modo importante alla storia scientifica della SPI negli ultimi decenni e che rappresentano molteplici e differenti punti di vista che, potremmo dire, hanno fatto e fanno scuola. Sono tutti i psicoanalisti colleghi molto noti e sarebbe quindi riduttivo farne una piccola presentazione. Siamo in un incontro tra colleghi, non serve che io vi dica chi è Nando Riolo, che peraltro, oltre a essere un importante autore, è stato anche presidente della società psicoanalitica. Quindi non posso che ringraziarlo, ringraziare tutti e dargli la parola in modo che ci faccia la sua lezione che ha pensato di intitolare C'è del metodo nel nostro metodo? La parola a Nando. Buonasera, grazie. In realtà non è un interrogativo. Il punto interrogativo forse è stato aggiunto per errore. La mia idea è c'è del metodo nel nostro metodo. Ovviamente è una parafrasi della nota frase shakespeariana della nostra follia. Molti anni fa, per rappresentare lo scenario della psicoanalisi, avevo letto una pagina di Che No, che vi ripropongo con una piccola intromissione aggiunta. Il 25 settembre 1264, sul far del giorno, il duca d'Oge salì in cima al torrione del suo castello per considerare la situazione. La trovo poco chiara. Resti del passato alla rinfusa si trascinavano ancora qua e là. Sulle rive del vicino rivo erano accampati un uno o due. Distante un gallo, forse edueno, immergeva udacemente i piedi nella fresca corrente. Si disegnavano all'orizzonte le sagone spatte di qualche diritto romano, di gran saraceni, vecchi franchi, ignoti vandali. I normanni bevevano caldo rosso. Il duca d'Oge sospirò, pur senza interrompere l'attento esame di quei fenomeni consumiti. Gli unni cucinavano bistecche alla tartare, i goloise fumavano gitanno, i romani disegnavano greche, i franchi suonavano lire, i saraceni chiudevano persiani. Uno sparuto gruppo di boicani leggeva Freud. Da alcune abitazioni sbrecciate filtravano luci buluastre. Erano gli zoo analisti, gli zoom analisti, cablati ai loro telebroni. Alcuni seguivano esercizi di estensione, altri di restrizione, tutti con la migliore intenzione. Altri si annoiavano e guardavano crozza. Avete capito la mia intromissione. Tutta questa storia, disse il Ducadoge, tutta questa storia per un po' di anacronismo. Non si troverà mai una via d'uscita? Continuò per qualche tempo a osservare quei rinasugni che resistevano allo sbriciolamento e poi lasciò il posto di vedetta e scese al piano inferiore del castello dando sfogo al suo umore, cioè alla voglia che aveva di picchiare qualcuno. Fine dell'esergo. Non seguirò l'esempio del Duca, ma certo è che nel frattempo la situazione non mi sembra molto migliorata, né un esempio il tema del nostro ultimo congresso, gli inconsci. Nel panorama attuale della psicoanalisi coabitano concezioni psicogenetiche, concezioni patogenetiche e concezioni della cura che propongono principi di spiegazione diverse e in buona parte incompatibili, da cui discendono pratiche cliniche a loro volta diverse e incompatibili. il problema non è la diversità, è che ad essa non segue il percorso che è proprio di un vero pluralismo scientifico, il confronto e la falsificazione delle teorie e ipotesi di volta in volta avanzate, ma si traduce piuttosto in una forma di commensalismo nel quale le diverse scuole correnti permangono tutte le une accanto alle altre senza modificarsi né falsificarsi vicendevolmente anche quando affermano cose vicendevolmente contraddittorie. Per cui non solo quanti inconsci, ma quanti ci sono e quanti sé che del termine sé condividono solo il nome. Basti pensare al sé di Winnicott, al sé di Hartman e al sé di Coutt che non hanno nulla a che fare l'uno con l'altro. E quante idee di affetto, di emozione, di identificazione, di relazione. Non sarebbe necessario allora identificare con precisione quei concetti e metterli a dialogare tra loro? Da questa esigenza è nato il programma di ricerca concettuale che ha coinvolto molti colleghi di provvedienze e orientamenti diversi e adesso, dopo più di cinque anni, è finalmente giunto a qualche conclusione. Ma oggi non parlerò di quello. Verrà pubblicato nel prossimo numero monografico della rivista di psicoanalisi il risultato di quella ricerca. Parlerò del metodo psicoanalitico che però con quello c'entra parecchio perché si colloca nel punto di snodo di quelle divergenze e, se condiviso, potrebbe condurle verso una evoluzione. Se è condiviso, i scienziati possono parlarsi e confrontare le loro ipotesi perché condividono lo stesso metodo, il metodo matematico, non i contenuti e le ipotesi. Ma noi non siamo matematici, purtroppo, ma anche gli storici condividono il metodo storico, i medici il metodo clinico. Noi condividiamo lo stesso metodo. Negli anni Ottanta si era svolto al 36esimo congresso internazionale dell'Ipa che si svolse a Roma un vivace confronto tra Ron Schaffer e Robert Wallerstein. Il tema già era lo stesso, una o molte psicoanalisi. Ed è possibile trovare un common ground che le unifichi? Schaffer rivendicò l'appartenenza della psicoanalisi al paradigma ermeneutico, in base al quale le descrizioni analitiche non sono da considerare il prodotto di processi osservativi, ma di processi di significazione. Essendo questi processi, a differenza di quelli delle scienze naturali, caratterizzati dalla dipendenza dal contesto e dalla storia soggettiva, bisognava accettare che essi non potessero dar luogo a leggi universali valide al di fuori di quel particolare contesto soggettivo. Wallerstein pose dal suo canto a Schaffer un'obizione micidiale. Se la psicoanalisi è solo un campo ermeneutico singolare e soggettivo, la questione che si pone è che cosa la differenzia da tutti gli altri contesti che svolgono questa stessa funzione e che cosa la differenzia da tutte le concezioni non psicoanalitiche della mente, l'esistenza stessa della psicoanalisi si basa sull'assunto che non ogni descrizione della mente umana sia equivalente alle altre. Dalla posizione di Schaffer deriverebbe invece che essendo l'analisi solo una costruzione di senso, qualsiasi operazione che assolda a tale compito sia ugualmente lecita. Anything goes. Per cui verrebbe meno la possibilità stessa di definire qualcosa come psicoanalisi e qualcos'altro come non. Se invece questa differenza esiste, allora è necessario individuare cosa la caratterizza eppur nella diversità dei modelli teorici ne specifica l'identità. Qual è allora il luogo della specificità? Per Wallerstein non è quello delle teorie generali il cui valore di verità dice è indecidibile è indecidibile in quanto sono costruzioni meta-empiriche distanti dalle esperienze osservative. Ma risiede piuttosto nelle teorie cliniche in quanto queste sono derivate dalle osservazioni analitiche e sono suscettibili pertanto di essere confrontabili. L'alternativa a questo disse è di permanere citazione in quello stadio in cui non vi è alcun criterio per asserire la validità di un'ipotesi rispetto a un'altra o di una interpretazione rispetto a un'altra. L'istanza posta da Wallerstein sull'esigenza di un criterio condiviso di decidibilità è imprescindibile. Ma l'idea che tale criterio possa risiedere nella teoria clinica in quanto questa a differenza della teoria generale avrebbe il vantaggio di derivare direttamente dalle osservazioni mi sembra espressione di una concezione ingenua del processo epistemico. Cercherò di dire perché. Innanzitutto la considerazione che le teorie generali sono meta-imperiche e cioè non sono estratte direttamente dai fatti non è una prerogativa della psicoanalisi non è un limite della psicoanalisi il fatto che non siano estratte direttamente dai fatti ma è una caratteristica propria di tutte le teorie scientifiche. Le scienze sono sistemi assiomatico deduttivi si basano cioè su un certo numero di postulati e proposizioni in massima parte non derivati dalle osservazioni. Tali proposizioni di carattere molto generale assiomi sono adoperate come premesse da cui derivare ipotesi di livello inferiore e le ipotesi di livello inferiore hanno un grado di generalizzazione via via minore fino a un livello sufficientemente particolare da renderle adeguate a una qualche forma di corrispondenza con le osservazioni il che vuol dire che le ipotesi particolari non sono indipendenti dai livelli precedenti né sono separabili da essi. La corrispondenza con le osservazioni inoltre anche quando è possibile è sempre parziale e sta proprio in questo la sua funzione euristica poiché da quello scarto conseguono ulteriori richieste al lavoro della teoria che dovrà modificarsi in modo da raggiungere un grado di approssimazione migliore. Il rapporto tra osservazione e teoria è perciò in ogni scienza interdipendente e reciproco. In altre parole i dati e le teorie sui dati non esistono come due realtà separate costituiscono un sistema all'interno del quale si codeterminano. Ma c'è un'altra obiezione a una via che intenda far discendere la teoria dalla clinica ed è che tale proposta si basa sul fraintendimento quello di ritenere che una teoria clinica sia perciò stesso empirica. Ora a parte il fatto che equiparare le esperienze Erfahringen analitiche a dati empirici è difficilmente sostenibile il presupposto che abbia per oggetto la clinica non rende affatto questa teoria per così dire meno teorica. la rende semmai meno generale. Una teoria clinica è solo una teoria particolare e in quanto tale dipende da una teoria generale e non solo dai fatti dai dati. Come aveva esaurientemente dimostrato fin dagli anni settanta Benjamin Rubinstein tutti i termini di cui si serve la teoria clinica identificazione proiezione fantasia inconscia conflitto resistenza transfert sono concetti metapsicologici e perfino il livello più particolare di descrizione quello del resoconto della seduta in questo aveva ragione Schaffer è una costruzione teorica dal momento che un ordinamento dei fatti successivo all'esperienza dei fatti è inseparabile dalla loro selezione e dalla loro interpretazione cosa che del resto era già ben chiara a Freud che in quel magnifico trattatello di epistemologia che scrive all'inizio di Pulsioni e loro destini dice già nel corso di una descrizione clinica non si può evitare di applicare al materiale determinate idee astratte le quali sono ricavate da un'altra parte e certo non solo dalla nuova esperienza piuttosto esse rinviano al materiale dell'esperienza dal quale sembrano ricavate ma che in realtà viene ad esse assoggettato in altri termini la clinica della quale possiamo parlare non esiste se non come un livello della teoria che rimanda da un lato ad altri livelli teorici e dall'altro alle esperienze cliniche perciò anche da questo punto di vista ogni visione intesa ad assegnare un primato alla teoria come alla clinica è semplicemente priva di senso la realtà che come analisti indaghiamo consiste tanto dei fenomeni psichici che osserviamo ma più spesso desumiamo quanto delle teorie che ci consentono di osservarli e desumerli la soluzione non può stare perciò nel rivolgersi agli uni piuttosto che le altre ma nei criteri della loro correlazione i criteri che consentono e regolano questa correlazione costituiscono il metodo la questione della specificità rimanda quindi al metodo ovvero a quali sono le regole che consentono la rilevazione e la verifica dei dati della psicoanalisi che consentono di osservare comprendere e valutare le esperienze che facciamo in analisi rinunziare a quelle regole ci espone al rischio di una pratica clinica del tutto soggettiva immediata o selvaggia e a me pare che l'idealizzazione tout court della clinica quale luogo della veridicità dell'analisi contribuisca alla divaricazione progressiva tra un campo di esperienze cliniche sempre più eterogene peraltro quanto ai sistemi osservativi da cui provengono ai setting da cui provengono è un apparato teorico sempre più destituito del compito di indagarne i livelli non manifesti col risultato di ritrovarci nuovamente al ground zero della psicoanalisi e alla rinascita della psicologia dell'obbio il soggetto della coscienza il piano manifesto l'introspezione il comportamento i fatti la relazione reale il bambino e la madre reale ovvero capovolgendo Willicott dalla psicoanalisi alla pediatria Freud era ben consapevole di questo dal momento che aveva posto uno juntin fra teoria metodo e clinica che gli chiamava più propriamente il trattamento aggiungendo che dalla loro triplice correlazione che prende origine il campo osservativo della psicoanalisi allo stesso modo in cui sono necessari almeno tre punti per definire uno spazio se dovessimo perciò rappresentarci il campo dell'analisi dovremmo raffigurarlo come un triangolo del quale teoria metodo e clinica costituiscono i vertici dalla loro correlazione si genera lo spazio all'interno del quale si producono sia le nostre osservazioni che le nostre interpretazioni che le teorie che rendono possibile il passaggio dalle une alle altre l'idea che la psicoanalisi è un sistema derivante dalla correlazione fra teoria metodo e clinica è in linea di principio condivisa da tutti ma solo in linea di principio perché se è facilmente accettata nella premessa lo è assai meno nelle conseguenze che sono invece cogenti in virtù di quella triplice interdipendenza dovremmo assumere infatti che il metodo e le teorie non solo ci guidano nella comprensione delle osservazioni cliniche ma anche determinano quali oggetti possiamo osservare e che reciprocamente questi oggetti gli oggetti osservati determinano quali teorie si rendono necessarie per la loro spiegazione parafrasando una celebre frase di Einstein sono le teorie a decidere quali osservazioni possono essere fatte ma sono le osservazioni a decidere quali teorie devono essere formulate ne consegue che il cambiamento di ciascuno dei vertici determina che lo si voglia o no il cambiamento degli altri a livelli di osservazione diversi corrispondono oggetti diversi e descrizioni diverse tutto ciò sarebbe immediatamente evidente se facessimo riferimento a sistemi osservativi ben consolidati come quelli delle scienze fisiche il telescopio ottico è figlio delle leggi della meccanica classica e servì a consentire l'osservazione degli oggetti considerati da quella teorie i pianeti le comete i corpi visibili ma fu necessaria l'invenzione del radiotelescopio per oltrepassare la banda delle radiazioni ottiche e poter osservare le stelle di neutroni e i quasar allo stesso modo nel campo del microscopico fu necessaria l'invenzione dell'acceleratore gravitazionale per poter osservare il nucleo dell'atomo e le particelle ma l'acceleratore gravitazionale è a sua volta figlio della teoria quantistica e non sarebbe mai stato concepito se quella teoria non l'avesse reso concepibile risulta così evidente che se cambiamo la teoria e gli strumenti cambiano anche gli osservabili e reciprocamente se cambia il campo d'osservazione dovranno cambiare corrispondentemente le teorie e gli strumenti non sto dicendo con questo che noi non li dobbiamo cambiare al contrario sto dicendo che l'esempio delle scienze fisiche dimostra la necessità di cambiare se vogliamo estendere il nostro dominio conoscitivo a nuovi fenomeni clinici basti pensare alle modificazioni degli strumenti tecnici dello strumento della tecnica rese necessarie dall'estensione dell'analisi ai bambini alle psicosi ai gruppi la psicoanalisi come ogni scienza deve evolvere e trasformarsi il punto è che cosa deve trasformarsi e che cosa non poiché una trasformazione è tale in quanto qualcosa cambia e qualcosa resta invariato altrimenti non si tratta di una trasformazione ma di una cosa interamente nuova e diversa Freud aveva adoperato a questo proposito la metafora del coltello di Lichtenberg un fantomatico coltello l'invenzione surreale di un multiforme scienziato del Settecento Christoph Lichtenberg che tra le molte cose serie scrisse anche un trattatello umoristico sulle umane debolezze un inventario di oggetti paradossali disegnati un barometro che segna sempre bel tempo una fonderia tascabile per farsi in casa le palle da camione una maschera con lacrime incorporate da indossare per le visite di lutto e una macchina anticartesiana che metteva a copulare l'anima con il corpo In una delle pagine non c'è niente sotto c'è scritto un coltello senza lama al quale manca il manico Questa afanisi di coltello fu utilizzata da Freud per esemplificare la sparizione della psicoanalisi a causa come scrive della sottrazione di tutti quei punti in cui avevo identificato la sua essenza che così elenca l'abolizione del contenuto inconscio del sogno rimpiazzato dal testo manifesto donde interpretazioni attuali e prospettiche l'abolizione della pulsione rimpiazzata dalle motivazioni dell'io l'abolizione della nevrosi infantile rimpiazzata dai conflitti che attengono al presente l'abolizione dell'inconscio istintuale quale vis apervo ancorata al corpo rimpiazzato da un'idea di inconscio spirituale e simbolica questi erano dunque per Freud gli invarianti della teoria psicoanalitica ma aggiunge una volta abbandonate le teorie si rese indispensabile abbandonare totalmente anche il metodo d'osservazione e di conseguenza la tecnica analitica dalle modifiche della psicoanalisi scrive sempre Freud sono un corrispettivo del famoso coltello di Lichtenberg hanno tolto il manico e hanno sostituito la lama ma avendo di inciso la medesima marca noi dovremmo prendere questo coltello per quello precedente la teoria è il manico e il metodo è la lama dal loro incardinamento deriva il coltello di Freud dalla loro sottrazione il coltello di Lichtenberg ovvero l'evanescenza dell'intero strumento donde l'attuale dicotomia teorico-operativa che non solo rende possibile qualsiasi affermazione teorica ma autorizza qualsiasi pratica clinica per cui come diceva Wallerstein anything goes ognuno può fare quel che gli pare e chiamarlo psicoanalisi a questo punto dovrebbero essere sufficientemente chiare due cose la prima che teoria tecnica e clinica costituiscono un unico sistema incardinato dal metodo B due che il metodo non è la tecnica come già anticipato dalla citazione che vi ho appena letto per Freud essi vanno infatti distinti il primo il metodo osservativo è il dispositivo concepito per condurre l'esplorazione dell'inconscio attraverso i suoi derivati coscienti la seconda la tecnica analitica è il dispositivo concepito per consentire l'esercizio del metodo nella conduzione del trattamento per questa ragione le libere associazioni in quanto sono lo strumento osservativo fondamentale della psicoanalisi contraddistinguono il metodo psicoanalitico mentre il setting l'interpretazione l'analisi del transfer fanno parte della tecnica e questo ha implicazioni importanti per il nostro discorso poiché ci permette di distinguere ciò che appartenendo al metodo psicoanalitico andrebbe considerato invariante da ciò che appartenendo alle tecniche operative può essere soggetto a variazioni ma con una limitazione decisiva che discende dallo Jungtin le variazioni devono essere compatibili con la teoria e con il metodo adottato naturalmente quando apportiamo dei cambiamenti alla tecnica dobbiamo perciò sempre domandarci non solo se sono utili ma se sono o meno compatibili con ciò su cui essa si fonda e che la sottende in caso contrario dobbiamo assumerci la responsabilità scientifica di affermare che quel cambiamento investendo parimenti legittimo ma investendo parimenti la tecnica la teoria e il metodo assume la portata di un cambiamento paradigmatico un esempio il modo in cui si affronta la questione dei cambiamenti del setting dai parametri la stanza ad analisi la frequenza elaborata delle sedute la postura fisica la limitazione del campo visibile la limitazione della comunicazione al registro verbale il pensiero liberamente fluttuante la sospensione dell'attenzione orientata e del giudizio l'astinenza da condotte suggestive e direttive l'assenza di rapporti personali dall'insieme di tutti questi fattori risulta un dispositivo osservativo davvero specifico singolare e specifico che è correlato agli assunti teorici dai quali quel dispositivo discende la teoria del determinismo inconscio dei contenuti della coscienza la teoria delle difese la teoria del sonno la teoria del transfert e della ripetizione il dispositivo teorico tecnico è concepito cioè in funzione della rilevazione di quei processi che il dispositivo teorico mette sotto osservazione quindi il dispositivo tecnico è concepito in funzione della rilevazione dei processi previsti dal dispositivo teorico il determinismo inconscio le difese che accade allora se cambiamo il dispositivo non c'è nulla da dire contro le analisi san divan le analisi di gruppo le analisi familiari le analisi a una seduta settimanale le mail analysis le tele analysis le skype analysis il punto è quali processi oggetti ci aspettiamo di incontrare in questi setting osservativi perché almeno una cosa dovrebbe essere evidente che ne risulteranno inevitabilmente osservazioni cliniche almeno in parte diverse e queste influenceranno la natura delle nostre spiegazioni e delle nostre teorie come si affronta la questione solitamente con la negazione di questa differenza non importa se le sedute sono quattro o una o se sono fatte al telefono purché dall'altra parte ci sia un analista come se l'analisi non fosse una tecnica ma funzionasse grazie ad un potere mistico che risiede nella mente dell'analista improntando col suo crisma qualsiasi cosa gli faccia come in Made in England ironizzava Freud che avrebbe detto questo è idealismo signori conoscete la storia degli occhiali di Berkeley dunque il reverendo Berkeley a dimostrazione del suo idealismo raccontò un giorno ai suoi studenti che alcuni anni prima gli si era rotta la montatura degli occhiali e aveva dovuto sostituirla successivamente a causa del peggioramento della vista aveva dovuto sostituire anche le lenti e i cerchi eppure quelli che adesso inforcata per lui erano sempre gli stessi occhiali anche se non un solo pezzo di essi era rimasto lo stesso dunque dunque gli occhiali erano per Berkeley l'idea degli occhiali e se la psicoanalisi fosse l'idea della psicoanalisi saremmo a posto ma cosa potrebbe fermare allora quel conto alla rovescia che sembra inarrestabile cinque sedute quattro sedute tre due una zero fino al foglio completamente bianco di Lichtenberg un'altra prova che non è possibile definire alcuna regola tecnica senza far riferimento a quale sia l'idea di processo che vi sottende o il che è lo stesso a quali siano il metodo e la teoria della cura la domanda diventa dunque quali sono le condizioni necessarie all'esercizio del metodo analitico se ad esempio pensiamo come io penso che tre sedute settimanali siano una condizione compatibile con l'esercizio del metodo mentre la presenza di un analista e di un paziente in una stanza ne sia una condizione necessaria considereremo il numero delle sedute una variabile dipendente che ammette delle variazioni controllate mentre assumeremo come invariante la regola che analista e paziente debbano essere fisicamente presenti escluderemo perciò di poter considerare psicoanaliticamente valida una relazione che ha come interlocutori due effigies naturalmente si potrebbe considerare invece quella condizione non necessaria per l'esercizio del betolo ma in tal caso bisognerebbe dimostrarlo intendo dire che se quello che fin qui ho detto è vero la questione della tecnica non sto facendo un'opzione sto facendo una questione di metodo adesso di metodo logico intendo dire che se quello che ho detto fin qui è vero la questione della tecnica non può essere affrontata con criteri puramente pragmatici perché non si tratta mai solo di differenze di tecnica e per essere chiaro non sto parlando del ricorso alla pratica dell'analisi a distanza reso inevitabile per tutti noi dai tragici eventi di questi anni ma della sua normalizzazione anonica che era già in atto da molto tempo prima un esempio lo fece una volta Grimm disse se mi trovassi su un aereo e un passeggero avesse ingurgitato di traverso un oliva e stesse per morire soffocato potrei praticare una tracheotomia anche con il coltellino di plastica del mio vassoio ma questo non vorrebbe dire abilitare come pratica chirurgica normale l'uso del coltellino di plastica al posto di un bisturi e di una sala operatoria in altre parole l'estensione di quella pratica al di fuori delle condizioni eccezionali che l'hanno resa necessaria non è di per sé illecita ma richiederebbe una giustificazione che ne mostri la fondatezza teorica e metodologica ad esempio l'altra posizione quella che la esclude questa ipotesi si fonda su un assioma del metodo freudiano l'analisi si svolge in presenza dell'oggetto poiché nulla può essere sconfitto in absenza o in effigie anche più forte è l'assioma bioniano l'oggetto analitico per essere tale deve possedere tre dimensioni un'estensione nella dimensione dei sensi un'estensione nella dimensione del mito del racconto e un'estensione nella dimensione della passione dove la qualità della presenza è duplice in questo assioma quella che è propria dei sensi e quella che è propria della passione compassione dice Bion intendo una dimensione che l'amore l'odio o la conoscenza devono possedere per essere riconosciuti come elementi che sono presenti presenti e attivi la consapevolezza della passione non dipende dai sensi perché i sensi siano attivi è necessaria una mente soltanto la passione invece è la prova che due menti sono presenti e legate fra loro e che non possono essere di meno di due persone se la passione è presente pertanto dice gli oggetti e i fenomeni caratterizzati da una sola di quelle dimensioni sono da considerare per Bion non appartenenti al campo della psicoanalisi mi auguro a questo punto di aver chiarito che la tecnica non è indipendente dalla teoria e dal metodo dovrei parlare adesso di ciò che caratterizza il metodo ma vi rimanderei su questo al lavoro che ho scritto su Notes per la psicoanalisi e che è stato recentemente ripubblicato sulla rivista di psicoanalisi sulla nostra rivista mi rimetterò a richiamare brevemente quelli che ho indicato come i funtori costitutivi dal metodo psicoanalitico quindi cos'è che caratterizza questo nostro metodo il primo e il più importante è il pensiero del sogno perché dalle regole del lavoro del sogno le regole logiche sintattiche temporali spaziali del processo primario che nacque l'invenzione del metodo la via regia per l'inconscio le regole fondamentali del metodo analitico le libere associazioni e la loro controparte per l'analista l'attenzione liberamente fluttuante il dreamlike thinking sono isomorfe alla regola del lavoro analitico del lavoro onirico hanno lo scopo di sottrarre il flusso del pensiero alle trasformazioni operate dal processo secondario all'interesse all'intenzionalità della coscienza all'organizzazione di senso già data permettendo che si sviluppino altre reti di significazione il lavoro del sonno assume quindi per noi valore paradigmatico e sostà a fondamento del metodo che lo applica a tutti gli osservabili che intanto divengono oggetti dell'analisi in quanto sono sottratti alla loro realtà manifesta sensoriale o razionale e considerati come trasformazioni di processi inconsci che adesso si manifestano nei derivati del linguaggio del comportamento del transfert delle formazioni sintomatiche e della relazione reale il metodo analitico assolve in questa prospettiva la funzione specifica di strumento operativo per la messa in crisi del piano fenomenico in quanto sistema interamente di fifroidi in tessuto di falsi messi non un sistema da decodificare quindi ma da disingannare interrompere e rompere in modo da rendere accessibili i nessi soggiacenti questa attività decostruttiva è il secondo funtore del metodo la differenza tra il mio pedo e il suo scrive Freud da lui Andrea Salomè è che il mio metodo è di dividere e il suo è di unire il termine analisi la famosa metafora chimica significa scomposizione e contiene un'analogia con il lavoro che il chimico compie sulle sostanze complesse che porta nel suo laboratorio per isolarne gli elementi l'analista mette in moto un outflow un prozesse un processo di scioglimento e questo una volta avviato va per la sua strada non si lascia prescrivere né la direzione né la meta in tal modo Freud sottraeva l'analisi non solo al dominio del pensiero intenzionale ma anche a quello dell'agire intenzionato al dominio dell'utile del buono e del giusto assegnandole anche come terapia il medesimo obiettivo che le aveva affidato come scienza il riconoscimento disinteressato della realtà al terzo funtore ho già accennato è la triplice natura dell'oggetto analitico sensoriale patica e narrativa in quanto essa comporta la presenza dell'oggetto di due corpi e di due menti in relazione tra uomo il lavoro psichico di trasformazione di un'analisi non dipende da un soggetto soltanto è funzione della personalità del paziente e di quella dell'analista delle sensazioni delle cognizioni e delle passioni patemata in senso originario passioni patemata di entrambi sulla nostra via nel nostro metodo scrivevo camminano due viandanti a questo punto farei una piccola pausa per consentirvi di riposare un attimo dalla densità del discorso e riprendere fra qualche minuto se Patrizio è d'accordo con una parte più breve ma secondo me utile interessante e nuova di questo discorso che desuvo dal lavoro di ricerca che abbiamo fatto quindi anche una piccola anticipazione di ricerca di ricerca